No, lo sanno tutti che siete nati e soprattutto i grandi amici dove vengo sempre al parcheggio. E questa era l'accoglienza per Maria Teresa Ruta che sappiamo è diventata nonna dello Splendono di seguito le immagini di lei al lavoro. Ciao! Certo che non ho mai avuto un panorama così mentre studio un copione. Caspita! Signore, signori, buonasera!